Salve, sono l'Avvocato Angelo Di Lorenzo dell'Associazione Avvocati Libri. Con questo video spero di riuscire a rispondere alle domande ricorrenti che ricevo sul come difendersi contro le vessazioni che i cittadini subiscono quando entrano in contatto con le strutture sanitarie, sociosanitarie, gli hospice, le RSA, le case di cura, eccetera. Mettiamo subito in chiaro una cosa. Non esiste allo Stato una legge che obblighi i cittadini italiani ad eseguire prestazioni personali, quali sono, quali è l'uso, l'utilizzo della mascherina o la sottoposizione a trattamenti sanitari, quale è quello tamponale anti-Covid che è invasivo per il prelievo che si fa di sangue o di liquidi o di bucose corporee per accedere a qualsiasi luogo, a qualsiasi funzione, a qualsiasi attività o servizio della nostra vita sociale quotidiana e individuale o professionale. Quindi lavoro, istruzione, sanità, eccetera. Caro cittadino o cara cittadina, se non vuoi, non sei tenuto a sopportare prestazioni personali o trattamenti sanitari che sono imposti da soggetti terzi, pubblici o privati che siano, perché solo la legge potrebbe obbligarti in questo senso e attualmente non esiste nemmeno una norma di legge che preveda una cosa del genere. Il problema purtroppo oramai dilaga ed il compito di difenderci spetta a noi. A ciascuno di noi ognuno deve tirarsi su le maniche ed iniziare a difendere se stesso, a difendere i propri diritti, le proprie libertà e la propria dignità. Non è più concepibile infatti delegare questa difesa a terzi. Nella situazione in cui siamo, per la diffusività di questo fenomeno, non si può risolvere il problema delegando un avvocato, ad esempio. Noi non siamo la soluzione, non riusciamo a difendere tutti, siamo in pochi, siamo troppo pochi anche rispetto all'enorme numero di domanda di giustizia e peraltro non possiamo e ne vogliamo aggiungere altri costi a quelli che il cittadino deve sopportare per difendersi da queste prepotenze quotidiane degli sceriffi di turno. Quindi se non vuoi, puoi e devi dire di no. E a questo punto tutti mi chiedono come si fa a dire di no. Ma è semplicissimo, un no è un no. Ci si rifiuta di sottostare ad un'imposizione abusiva, si chiamerà il responsabile della struttura, si chiederà di avere la copia della disposizione interna che dispone l'ordine, il trattamento, la prestazione personale abusiva, si acquisiranno i nominativi degli autori dell'impedimento, quindi la guardia giurata, il personale sanitario, l'operatore tecnico, il direttore sanitario ovviamente, della struttura e si procederà prima ad una diffida e poi in caso di persistenza ad una vera e propria denuncia. Perciò la prima cosa da fare quando ci si trova di fronte a questa situazione è dire io non voglio farlo alla violenza o alla minaccia che ragionevolmente eseguirà di rifiutare l'assistenza sanitaria o l'accesso alle cure o l'ingresso per il lavoro all'interno di queste strutture si rappresenta allo sceriffo che tale impedimento è un reato e che non si esiterà a presentare una denuncia con richiesta di risarcimento del danno nei suoi confronti. L'importante è che nelle risposte non si ecceda nella violenza fisica o verbale, nelle offese, nelle diffamazioni perché se si passa dalla parte del torto e quindi si assumono delle reazioni scomposte si perde il vantaggio della ragione perché caro cittadino e cara cittadina hai assolutamente piena ragione e devi essere consapevole che stai subendo un abuso. Un buon modo per evitare esagerazioni è quello di registrare tutto anche con il cellulare o con una piccola cam senza farsi vedere, senza dire nulla al proprio interlocutore ma registrare tutto che questa registrazione servirà per documentare gli accadimenti ma anche per farti rimanere calmo sapendo che stai registrando e successivamente sarà la prova della violenza privata subita dell'omissione degli atti di ufficio dell'interruzione del pubblico servizio ad opera dei sanitari responsabili di questo rifiuto. Fatto questo si torna a casa e si penserà ad inviare la diffida e se in seguito ad esso il comportamento abusivo persiste sarà possibile presentare anche una denuncia. Avvocati Liberi ha predisposto un modello di diffida e due modelli di denuncia della struttura sanitaria responsabile di dati abusi che possono essere liberamente scaricati attraverso il nostro sito www.avvocatiliberi.legal andando sulla pagina risorse per il cittadino e aprendo l'utility io dico no. Una volta predisposta ed inviata la diffida non resterà che tornare nuovamente presso la struttura diffidata dopo 7, 8, 10 giorni appena possibile ripetendo la procedura fatta in occasione del primo accesso con l'aggiunta che questa volta porterete con voi la diffida notificata e annuncerete in caso di persistenza dell'abuso che procederete a denunciare ai carabinieri i responsabili di tale violenza. La denuncia querela va sporta personalmente al più vicino posto di polizia o di sostazione dei carabinieri oppure può essere presentata personalmente all'ufficio denunce dei privati della procura della Repubblica competente sul territorio. Non è necessaria l'assistenza del difensore che poi di solito redige proprio questo atto che Ali ha condiviso liberamente né sono previste spese di sorta per la presentazione. Vediamo dunque ora come scompilare le due denunce. Dunque dal sito istituzionale di Avvocati Liberi www.avvocatiliberi.legal saremo qui nella home page bisognerà andare attraverso la barra di menu nella sezione di risorse in particolare risorse per il cittadino all'interno bisognerà individuare la sezione io dico no dove cliccandoci si aprirà la pagina con le denunce e la diffida di cui vi ha già parlato il collega Antonio Verdone. Le denunce sono due in particolare una di carattere più generale che è questa la denominata violenza privata nelle RSA e negli hospice e riguarda appunto la violenza privata per le imposizioni degli obblighi di tampone o di mascherina per tutti mentre poi la viene una seconda che è più specifica e contempla la fattispecie di violenza privata ma anche di omissione di atti di ufficio o interruzione di pubblico servizio per i casi in cui vengano negate delle prestazioni sanitarie e trattamenti operazioni e quant'altro nel caso di rifiuto di sottoporsi a tampone anti-covid per scaricare basterà cliccare due volte sull'icona dell'atto che interessa oppure con il tasto destro aprire in un'altra scheda il contenuto quindi scaricare il contenuto e così poi aprirlo con l'applicazione di Word su cui puoi poter lavorare una volta aperta con l'applicativo di Word l'atto scaricato si dovrà iniziare a lavorare compilando le parti che sono lasciate evidenziate in giallo quindi indicare il luogo della procura della Repubblica competente e in questo caso anche qualora si opti per la presentazione della denuncia querella tramite i carabinieri indicare di quale stazione si tratta una volta se si opta per la presentazione diretta in procura bisognerà cancellare interamente questa riga come una volta completate le parti evidenziate in giallo e quindi predisciate anche le opzioni per il genere maschile o femminile l'indicazione della data anagrafica luogo di nascita data di nascita di residenza codice fiscale bisognerà cancellare tutte le evidenziazioni in giallo per quanto riguarda le elezioni di domicilio esso di solito può coincide con il luogo di residenza o comunque può essere anche dichiarato un luogo diverso rispetto a quello di residenza normalmente è quello dell'avvocato che viene nominato ma in assenza di una nomina può coincidere come detto con l'indirizzo di residenza o anche con un altro luogo di lavoro o anche di un congiunto che sia di più facile e comoda reperibilità è anche consentita un'indicazione di un domicilio digitale ossia una PEC l'importante è che questa PEC sia cosiddetta propria ossia indichi nel suo prefisso dell'account il nome e cognome o comunque sia direttamente riferibile alla persona al soggetto che sottoscrive la denuncia una volta compilati i dati anagrafici bisognerà cancellare tutta la parte del ovviamente del suggerimento questa che vi ho appena evidenziato e togliere le evidenziazioni delle parti in giallo questo vale per tutto l'atto la parte in giallo è l'indicazione che bisogna intervenire in quel punto per personalizzarlo ad esempio iniziando la premessa in fatto e dunque riferendo cosa è successo si indicherà la data in questo in questo spazio si cancellerà il suffisso maschile o femminile e poi una volta compilato tutto l'intero l'intero l'intera frase o periodo o parola dovrà essere pulita dall'ipendenziazione anche in questo caso abbiamo lasciato delle opzioni che sia quando si si riferisce all'accesso all'RSA o alla casa di cura o all'hospice indicando il nome la via il luogo dove è sita e anche indicando la finalità dell'accesso se si accedeva per lavorare per espletare mansioni lavorative in tal caso indicare il tipo di mansioni e il tipo di lavoro oppure si accedeva ad esempio in un'RSA per far visita a un proprio congiunto in questo caso bisognerà indicare i dati anagrafici del congiunto e il grado di parentela una volta predisposta e indicate la finalità bisognerà cancellare quell'altra che non è che non è per propria e confacente alla storia alla premessa in fatto che il sottoscrivente va a denunciare passando al punto successivo bisognerà indicare l'impedimento l'impedimento all'ingresso all'accesso per la finalità o per far visita al proprio congiunto oppure per motivi per motivi di lavoro indicare quale dei due e cancellare l'altro anche in questo caso togliere una volta predisposta l'opzione togliere l'evidenziazione in giallo e anche ogni volta che troviamo un'evidenziazione bisognerà fare attenzione a optare per l'opzione corretta e togliere l'evidenziazione anche in questo caso abbiamo una congiunzione alternativa la O che è evidenziata in giallo perché qui in questo caso bisognerà indicare quale tipo di prestazione se l'uso della mascherina o di trattamento sanitario invasivo qual l'uso del tampone era stato imposto al fine di consentire l'accesso ovviamente cancellare l'opzione non pertinente e così proseguendo per l'intero atto bisognerà andare a compilare e a personalizzare anche i punti successivi e ad esempio sempre optando per quale delle due finalità si accedeva se nel caso in cui ed è auspicabile che il denunciante abbia diffidato secondo le indicazioni che vi abbiamo dato nella parte precedente sulla diffida prima di arrivare alla denuncia abbia diffidato la struttura e in questo passaggio bisognerà indicare la data della diffida se è fatta con raccomandata o con pec con la data e in questo caso in questo caso anche allegarla allegarla alla presente alla denuncia indicando quale diritto è stato di questi qui e di questi che sono stati qui posti in alternativa se è il diritto al lavoro o alle cure o alle visite indicando quale di questi diritti è stato impedito e cancellare gli altri proseguendo così sempre con la denuncia bisognerà fare sempre attenzione alle evidenziazioni compilando riempendo gli spazi delle date richieste e ovviamente l'ultimo punto della premessa in fatto è successivo alla diffida perché dopo la diffida nel momento in cui viene nuovamente impedito l'accesso per la finalità indicata potrà essere predisposta e depositata questa denuncia la parte successiva alla premessa in fatto riguarda sostanzialmente il diritto ossia il motivo per il quale si configura il reato che si va a denunciare è tutto spiegato in questi punti per quale motivo non era possibile impedire l'accesso o comunque obbligare il soggetto alla sottoposizione di prestazioni personali quali la mascherina o di trattamenti sanitari quali il tampone abbiamo anche indicato in questo punto precisato che l'ordinanza ministeriale sulla quale si potrebbe si dovrebbe basare una una delega o subdelega a questi soggetti privati che impongono questi queste prestazioni è stata comunque oggetto di impugnazione proprio per la nullità della subdelega e per l'eccesso assoluto anzi difetto assoluto del potere nella nella sezione di io dico no troverete anche il ricorso e il provvedimento interlocutorio del tarlazio in riferimento a questa a questo ricorso che potrà essere allegato senza meno alla presente denuncia questa evidenziazione serve e dovrà essere cancellata con questo suggerimento lasciando esclusivamente il documento due chiudendo la parentesi tutto il resto andrà cancellato fino alla fine fino alla fine ogni volta che si incontrano e ci si imbatte nell'evidenziazione nel giallo nell'evidenziazione in giallo bisognerà fare attenzione perché qui bisogna intervenire sul testo in questo caso in questo caso se la finalità era per la visita bisognerà cancellare del lavoro o se la finalità era per lavoro bisognerà cancellare per l'accesso alle cure o alla visita del congiunto sempre anche nel punto successivo questa o congiuntiva è stata evidenziata per una memo con riferimento a quale delle due imposizioni se la mascherina o il tampone veniva fatta indicare quale delle due e cancellare l'altra così avanti fino alla fine che vi esorto alla lettura comunque di tutto perché serve per comprendere effettivamente i motivi per i quali si propone una denuncia e dunque a questo punto arriviamo al nome e cognome nome e cognome del sergente sceriffo che impone e che persevera nell'imposizione nonostante aver ricevuto la diffida e quindi in questo spazio andrà inserito il nome e il cognome del direttore sanitario della struttura che è il responsabile anche se non presente anche se fisicamente non presente nell'impedimento ma il suo provvedimento della direzione sanitaria della struttura è il provvedimento in base al quale viene coartata viene posta una violenza morale e anche fisica perché quel provvedimento poi viene eseguito dai soggetti che sono deputati alla vigilanza e al controllo della struttura andando avanti nella nella denuncia bisognerà ecco qui indicare sempre il nome e cognome del direttore sanitario quando è richiesto fino poi ad arrivare alla alla fine in cui si propone effettivamente in questo spazio inserire il proprio nome e cognome e poi che si proporre la denuncia querela nei confronti del direttore sanitario che è il responsabile della casa di cura dell'RSA dell'Hospice indicare il nome e anche il luogo cancellando le altre opzioni nonché degli ulteriori autori delle condizioni decide oltre a quella del direttore sanitario di cui si chiede l'identificazione che dovranno rispondere per questa denuncia per la violenza privata e per tutti gli altri reati che il pubblico ministero vorrà qualificare attraverso la lettura dell'esposizione che è stata presentata con la denuncia ci si rimane si dichiara di rimanere a disposizione del pubblico ministero per essere sentito quale persona offesa bisogna indicare in questa sezione in questa parte ovviamente se sono presenti delle persone che magari hanno accompagnato il querelante denunciante durante quegli accessi o che possono testimoniare in ordine ai fatti in questo caso anche qui optare per l'opzione di genere maschile o femminile indicare il nome e indicare un recapito telefonico del teste o anche una sua mail si chiede con questa denuncia l'acquisizione della circolare o nota interna che ha la decisione sostanzialmente del dirigente sanitario della struttura che ha imposto quelle imposizioni illegittime sempre qualora non siano state consegnate al denunciante durante i suoi accessi e poi si chiede anche di essere informati nel caso in cui vi sia una richiesta di archiviazione che è necessaria propedeutica ad un'eventuale opposizione o in caso in cui vengono fatte delle richieste di proroghe dal pubblico ministero per proseguire le indagini tutte le altre richieste sono di ordine più che altro procedimentale e si ricorda di in questo ultimo adempimento di depositare la documentazione che si è richiamata quindi in caso al numero uno sarà la diffida e al numero due sarà il ricorso dell'altar di avvocati liberi e così da qui in poi tre, quattro, cinque, sei per le altre l'altra documentazione che il denunciante ha a disposizione che può essere utile alle indagini per il fatto che viene richiamato inserire luogo e data con una firma nome e cognome e con una firma e poi poter andarla a presentare alla procura della Repubblica competente o alla stazione dei carabinieri come vi ho detto all'inizio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti